Lilia Silvi, nata il 16 marzo 1932 a Milano, Italia, è stata un'attrice italiana la cui vita è stata caratterizzata sia da notevoli successi che da profonde tragedie personali. Il suo percorso nel mondo del cinema e del teatro è stato contraddistinto dalla sua eccezionale bravura e dalle sue versatili abilità di attrice, ma la sua vita personale è stata colma di sfide e dolori. Gli anni giovanili di Silvi sono stati influenzati dalla sua passione per le arti. Fin da giovane ha mostrato un talento naturale per la recitazione e ha aspirato a una carriera nel teatro e nel cinema. Negli anni 50, ha debuttato nel cinema italiano, attirando rapidamente l'attenzione di registi e produttori con le sue interpretazioni accattivanti. La sua straordinaria bellezza, unita alla profondità delle emozioni che portava ai suoi ruoli, l'hanno rapidamente resa una stella emergente nell'industria cinematografica italiana. Uno dei suoi film precoci più notevoli è stato La signora senza camelie, 1953, diretto da Michelangelo Antonioni. Questo film ha segnato l'inizio del suo percorso nel mondo del neorealismo italiano, un movimento cinematografico noto per la sua rappresentazione cruda e autentica della vita di tutti i giorni. Con l'avanzare della carriera di Silvi, ha assunto una vasta gamma di ruoli, dimostrando la sua versatilità come attrice. La sua abilità nel passare senza soluzione di continuità dai ruoli drammatici a quelli comici l'ha resa una talentuosa attrice molto richiesta nel cinema italiano. Ha lavorato con registi e attori di fama, guadagnandosi il plauso della critica per le sue interpretazioni in film come L'amore a Roma, 1960, e Mondo Cane, 1962. Dietro il glamour del suo successo professionale, Lilia Silvi ha affrontato una serie di tragedie personali. Negli anni 70, ha vissuto la straziante perdita di suo marito, il regista cinematografico italiano Sergio Leone, deceduto tragicamente. La perdita del suo compagno di vita è stata un colpo profondo, che l'ha costretta a navigare le complessità della vita da vedova. La tragedia della perdita del marito è stato un capitolo straziante nella vita di Lilia Silvi, che ha profondamente plasmato il suo percorso come attrice. Sergio Leone, noto per i suoi contributi rivoluzionari al genere spaghetti western, è stato non solo il suo compagno di vita ma anche una figura significativa nel cinema italiano. I percorsi di Lilia Silvi e Sergio Leone si sono incrociati nel mondo del cinema italiano, dove sono stati introdotti grazie alla loro comune passione per le arti. La loro ammirazione reciproca per il lavoro l'uno dell'altro è presto sbocciata in una relazione romantica e sono stati sposati in una gioiosa cerimonia. Come coppia, Silvi e Leone hanno formato un duo dinamico nel cinema italiano. Hanno lavorato insieme in diversi progetti cinematografici, fondendo i loro talenti artistici e la loro connessione personale per creare magia sul grande schermo. La loro partnership non era solo romantica, ma era anche contrassegnata da un reciproco rispetto per il lavoro dell'altro. Tuttavia, l'industria dell'intrattenimento, con le sue esigenze e sfide, può essere impegnativa per le relazioni personali. La costante attenzione dei media, le pressioni della fama e la lotta per bilanciare le rispettive carriere hanno contribuito a complicare il loro matrimonio. Una tragedia colpì quando la salute di Sergio Leone cominciò a deteriorarsi. Nei primi anni Ottanta, affrontò una serie di problemi di salute, culminati in una malattia devastante che avrebbe alla fine portato alla sua morte. Lilia Silvi rimase al suo fianco, offrendogli un sostegno incondizionato e le cure necessarie. Mentre la condizione di Leone peggiorava, Silvi assisteva all'uomo che amava, un collega artista e il suo compagno di vita, affrontare non solo le sfide fisiche ma anche quelle emotive. Lottava con la dura realtà di vedere la sua salute declinare, un peso emotivo che gravava pesantemente sulle sue spalle. Il 30 aprile 1989, il mondo pianse la perdita di Sergio Leone. La sua scomparsa segnò la fine di un'era nel cinema italiano, lasciando un vuoto che si fece sentire non solo nell'industria cinematografica ma anche nei cuori di coloro che ammiravano il suo lavoro. Per Lilia Silvi, fu una tragedia intensamente personale, e sembrava che una parte della sua anima fosse stata strappata via. Il periodo di lutto fu un momento cupo e introspettivo per Silvi. La perdita del suo amato marito la lasciò con un profondo senso di tristezza e vuoto. Il mondo aveva perso un visionario del cinema, e lei aveva perso l'amore della sua vita. Fu un momento di riflessione, introspezione e profondo dolore. All'indomani della scomparsa di Sergio Leone, Lilia Silvi continuò a onorarne la memoria preservandone il lascito. Rimase attiva nell'industria cinematografica e partecipò a progetti che rendevano omaggio al suo lavoro. Il suo impegno nel preservare l'eredità artistica di Leone era una testimonianza del suo amore eterno e del rispetto che provava per lui. La vita di Silvi dopo la morte di suo marito fu segnata da sfide personali e professionali. L'assenza di Sergio Leone lasciò un vuoto che non avrebbe mai potuto essere veramente colmato. Tuttavia, la sua dedizione alla sua arte e il suo amore per il cinema la spinsero ad andare avanti. Continuò a recitare in film, arricchendo ulteriormente il già impressionante corpus di opere. Le sfide personali di Silvi continuarono mentre combatteva con problemi di salute, tra cui episodi di depressione e ansia grave. Far fronte a questi demoni interiori fu un percorso emotivamente gravoso e isolante. La depressione, spesso definita il silenzioso assassino, aggravò le sfide che doveva affrontare. Si tratta di una condizione spesso fraintesa da chi non ne ha sperimentato il peso, e per chi è sotto i riflettori, le richieste della fama e la lotta per mantenere un'immagine pubblica perfetta accentuarono il dolore delle sue lotte per la salute mentale. Nonostante le sue sfide personali, Silvi rimase devota alla sua arte, continuando a lavorare nell'industria cinematografica. La sua capacità di perseverare nella sua professione mentre affrontava tali turbe interiori è una testimonianza del suo amore per la recitazione e del suo spirito incrollabile. Con il passare degli anni, la carriera di Silvi si modificò e iniziò ad assumere ruoli caratteristici sia nel cinema che in televisione. Sebbene il suo lavoro successivo non abbia ottenuto la stessa attenzione dei suoi successi precedenti, rifletteva il suo duraturo impegno per la sua arte. Negli anni successivi, continuò a vivere una vita segnata dai suoi interessi artistici, anche se il peso delle sue prove personali era grande. Lilia Silvi morì il 22 luglio 2009, segnando la fine di un'era nel cinema italiano. La sua vita è una testimonianza dell'indelebile impatto dell'amore e dell'arte, e la sua storia è quella di una donna straordinaria che affrontò le complessità della vita con forza, grazie a un impegno duraturo per la sua arte. La tragedia della perdita di Sergio Leone fu un capitolo profondo nella sua vita, ma lo affrontò con resilienza e un amore duraturo per l'uomo che aveva condiviso il suo percorso.